Ma cosa rappresentava il cinema allora? Una valvola di sfogo, la voglia di... Tanto, tanto. E la gente andava al cinema, anche perché si facevano dei film carini, delicate, non erano così botte, cazzotti. No, erano storie d'amore, erano dei bei film. Per esempio, quando io ho fatto La Bella di Roma, io, ragazzina, ero la protagonista, ma intorno a me avevo Alberto Sordi, Paolo Stoppa, Lina Volonghi o dei fiorfiori di grandi attori. Era una cosa stupenda lavorare. Mi sembra di capire che oggi tu non vada al cinema. No, anche perché i film di adesso, perdonatemi, ma non hanno quel non so che che ti tira.